Ragazzi ho andato a sbagliare, io continuo a sbagliare, non sarò mai esperto di niente, lo dico sempre, secondo la definizione di rubia sarò perduto, quindi state tranquilli, purtroppo, fare sempre cose giuste, scusami. Scusami, purtroppo vi devo lasciare perché mi iniziano a riunione con EASA, non è che è europeo per la sicurezza EASA, purtroppo devo lasciare, ho cercato di allungare il possibile. Anzi, ti ringrazio, ti ringrazio tantissimo per tutto questo, un abbraccione, Massimiliano, poi ci risalziamo. Ciao Massimiliano, ciao Massimiliano.